Come installare il kit SSD da 512 GB per le stampanti a colori HP LaserJet Enterprise serie 5000, 6000, X500 e X600. In breve, l'unità SSD Solid State Drive da 512 GB. Aumenta la velocità di archiviazione e di funzionamento del menu per le stampanti HP Color LaserJet Enterprise. Nota, prima di installare il kit SSD, aggiornare il firmware della stampante per garantire il corretto funzionamento. Spegnere e scollegare la stampante. Rimuovere eventuali cavi USB o Ethernet collegati. Sul retro della stampante, rimuovere la vite che blocca il coperchio del formattatore e fare scorrere per rimuoverlo. Aprire il kit SSD. La stampante in uso è dotata di una delle quattro configurazioni possibili. Nota, alcuni modelli richiedono l'utilizzo del cradle fornito. Se la stampante non dispone di un disco rigido, passare a Configurazione 1. Se la stampante dispone di un disco rigido senza una scheda di espansione USB interna, passare a Configurazione 2. Se sulla stampante ha installata una scheda di espansione USB interna, passare a Configurazione 3. Se la stampante dispone di un disco rigido e di una scheda di espansione USB interna, passare a Configurazione 4. Configurazione 1. Nessuna unità di archiviazione presente. Per questa configurazione, è necessario disporre dell'unità SSD, del cradle riser integrato e della scheda PCA riser. Il cradle dell'unità disco rigido, il supporto SSD e due rivetti. Far scorrere la scheda cradle riser e PCA riser integrata nel cradle dell'unità disco rigido allineando i perni con le aree inserite. Ruotare le clip di fissaggio e bloccarla in posizione. Allineare il supporto dell'unità SSD con le linguette di fissaggio del cradle dell'unità disco rigido e inserire il supporto in sede. Inserire l'unità SSD nella scheda PCA riser e farla scattare in posizione. Inserire il kit SSD nella presa di archiviazione di massa sul formattatore. Il kit scatta in posizione. Allineare il kit ai fori di supporto esterni e fissarlo utilizzando i rivetti forniti. Riposizionare il coperchio del formattatore e stringere la vite a testa zigrinata. Ricollegare eventuali cavi scollegati precedentemente. Collegare la stampante e accenderla. Nota. HP consiglia di collegare il cavo direttamente a una presa a muro. La migrazione dei dati viene avviata automaticamente quando si accende la stampante. Nota. La migrazione da un disco rigido può richiedere fino a 40 minuti. Una volta installata, l'unità SSD diventa l'unico dispositivo di archiviazione di massa riconosciuto. EMMC o HDD non sono più riconosciuti dal firmware della stampante. L'unità di archiviazione SSD sarà disponibile al termine della migrazione. Configurazione 2. Disco rigido presente senza scheda di espansione USB interna. Per questa configurazione, è necessario disporre dell'unità SSD, del cradle riser e della scheda PCA riser integrati e del supporto SSD. Rimuovere i due rivetti che fissano il gruppo disco rigido. Rimuovere il gruppo disco rigido premendo la leva di blocco ed estraendo il gruppo dal formattatore. Rilasciare le due linguette di fissaggio che fissano la scheda di interfaccia HDD al gruppo e rimuovere la scheda di interfaccia HDD. Inserire il cradle riser integrato e la scheda PCA riser nel cradle dell'unità disco rigido inserendola nel collegamento SATA del disco rigido. Allineare i perni all'area incassata del cradle dell'unità disco rigido. Bloccare in posizione le clip di fissaggio. Allineare il supporto dell'unità SSD con le linguette di fissaggio del cradle dell'unità disco rigido e inserire il supporto in sede. Inserire l'unità SSD nella scheda riser e farla scattare in posizione. Inserire il kit SSD nell'alloggiamento di archiviazione di massa sul formattatore. Il kit scatta in posizione. Allineare il kit ai fori di supporto esterni e fissarlo utilizzando i rivetti forniti. Riposizionare il coperchio del formattatore e stringere la vite a testa zigrinata. Ricollegare eventuali cavi scollegati precedentemente. Collegare la stampante e accenderla. Nota. HP consiglia di collegare il cavo direttamente a una presa a muro. La migrazione dei dati viene avviata automaticamente quando si accende la stampante. Nota. La migrazione da un disco rigido può richiedere fino a 40 minuti. Una volta installata, l'unità SSD diventa l'unico dispositivo di archiviazione di massa riconosciuto. Le MMC o il disco rigido non saranno più riconosciuti dal firmware della stampante. L'unità di archiviazione SSD sarà disponibile al termine della migrazione. Configurazione 3. Scheda di espansione USB interna installata. Per questa configurazione sono necessari l'unità SSD, il cradle dell'unità disco rigido, il pannello di protezione PCA, una vite e due connettori. Rimuovere la scheda di espansione USB interna premendo la leva di blocco ed estraendo il gruppo dal formattatore. Allineare la scheda USB con le linguette di blocco del cradle dell'unità disco rigido e inserire il supporto in sede. Inserire l'unità SSD nel pannello di protezione PCA e fissarla con una vite. Inserire il pannello di protezione PCA nella scheda USB e farlo scattare in posizione. Inserire il kit SSD nell'alloggiamento di archiviazione di massa sul formattatore. Il kit scatta in posizione. Allineare il kit ai fori di supporto esterni e fissarlo utilizzando i rivetti forniti. Riposizionare il coperchio del formattatore e stringere la vite a testa zigrinata. Ricollegare eventuali cavi scollegati precedentemente. Collegare la stampante e accenderla. Nota. HP consiglia di collegare il cavo direttamente a una presa a muro. La migrazione dei dati viene avviata automaticamente quando si accende la stampante. Nota. La migrazione da un disco rigido può richiedere fino a 40 minuti. Una volta installata, l'unità SSD diventa l'unico dispositivo di archiviazione di massa riconosciuto. Le MMC o il disco rigido non saranno più riconosciuti dal firmware della stampante. L'unità di archiviazione SSD sarà disponibile al termine della migrazione. Configurazione 4. Disco rigido presente con scheda di espansione USB interna. Per questa configurazione sono necessari l'unità SSD, una vite e il pannello di protezione PCA. Rimuovere i due rivetti che fissano il gruppo disco rigido. Rimuovere il gruppo disco rigido premendo la leva di blocco ed estraendo il gruppo dal formattatore. Inserire l'unità SSD nel pannello di protezione PCA e fissarla con una vite. Inserire il pannello di protezione PCA nella scheda USB e farlo scattare in posizione. Inserire il kit SSD nell'alloggiamento di archiviazione di massa sul formattatore. Il kit scatta in posizione. Allineare il kit ai fori di supporto esterni e fissarlo utilizzando i rivetti forniti. Riposizionare il coperchio del formattatore e stringere la vite a testa zigrinata. Ricollegare eventuali cavi scollegati precedentemente. Collegare la stampante e accenderla. Nota. HP consiglia di collegare il cavo direttamente a una presa a muro. La migrazione dei dati viene avviata automaticamente quando si accende la stampante. Nota. La migrazione da un rigido può richiedere fino a 40 minuti. Una volta installato, il kit SSD diventa l'unico dispositivo di archiviazione di massa riconosciuto. Le MMC o il disco rigido non saranno più riconosciuti dal firmware della stampante. L'unità di archiviazione SSD sarà disponibile al termine della migrazione. Sul canale YouTube di HP Support sono disponibili altri video utili.